Che cos'è l'innovazione sociale? I bolognesi lo sanno e parlando con un po' di operatori del terzo settore mi rendo conto che in realtà non ne avevano idea e così ci è venuto in mente di organizzare un dibattito, non un convegno, una discussione tra attori nuovi e vecchi che operano nel terzo settore, tenendo conto che l'innovazione sociale è innanzitutto partnership, condivisione di rischi e responsabilità e naturalmente anche successo. Quindi abbiamo deciso di avere una discussione con questi attori ma allo stesso tempo coinvolgere tutte le diverse stakeholder sul territorio. Che cosa ne è emerso? Secondo me è soltanto l'inizio di un processo. Sicuramente c'è un bisogno di cambiamento, c'è la ricerca di nuove strade e i giovani sono attratti da questo perché in sostanza porta il cool dell'innovazione però al cuore della società che oggi presenta molti problemi e ci dice che possiamo trovare una soluzione soltanto se lavoriamo in modo innovativo tutti insieme.